buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi il titolo di questo episodio è diavolo diavolo diavoli chiamali come vuoi demoni demoni dal greco dias due bene male che significa tutta questa bella ambaradan di parole mi riferisco al fatto che i soldi vengono affibbiati al diavolo da quando siamo su questa terra soprattutto nell'occidente i soldi vengono equiparati al diavolo ok lo sterco del diavolo i ricchi sono cattivi i soldi sono sporchi lavati le mani e compagnia bella per cui tutto ciò che riguarda ricchezza soldi benessere viene equiparato al diavolo ed io per tanti e tantissimi anni intriso della religione cattolica perché sono una mamma mezza suora mancata e anch'io alla fin fine inconsciamente ci credevo per cui allontanavo sempre da me la ricchezza i soldi e infatti ho penato le pene dell'inferno per tantissimi anni anche soprattutto quando ero uno studente lavoratore senza una linea in tasca a modena vicino milano per chi non lo sapesse perché questi video ragazzi girano un po in tutto il mondo per cui quando invece ho iniziato a fare un'opera di pulizia subconscia con l'ipnosi e soprattutto con l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola la mia vita chiamala magia chiamala miracolo io lo chiamo potere della mia mente è cambiata da così dal negativo al positivo oggi grazie a dio al potere della mia mente all'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola sto bene per le prossime 37 vite non lo dico per vantarmi ma per ispirarti ispirarti ispirare te quelli come te mi tolgo gli occhiali così mi vedi benissimo ad utilizzare il potere della tua mente magari con l'ipnosi di cs vera professionale anche nel mondo dei soldi della ricchezza e sempre ricordalo a fin di bene perché i soldi non sono del diavolo i soldi sono uno strumento che servono per aiutare te stesso la tua famiglia i tuoi cari e anche il prossimo perché io non ho visto mai nessuno senza soldi che potesse costruire scuole orfanotrofi chiese e quant'altro mi dispiace rispondo un po a delle email che parlano di questi argomenti e li ho raggruppati nel titolo diavoli ok per cui ragazzi tutto ciò che l'ipnosi di massa i poteri forti hanno inculcato sui soldi ma guarda caso solo la minoranza il potere forte li utilizza per manipolare e farci fare tutto ciò che vogliono sono soltanto uno strumento neutrale lo puoi utilizzare a fin di bene a fin di male l'estate è la scelta e quindi ritornando al discorso di prima tutto proviene dal subcosciente e se tu non credi alle mie parole puoi anche scaricarti un audio mp3 dcs che può fare al caso tuo del tuo caro o della tua cara che trovi sul sito dell'associazione i prolegi associati losages baby hills un audio mp3 che può fare al caso tuo come eco entusiasmo come tu sai vendere o no passato negativo perché a volte il passato negativo è subconscio non te lo ricordi però gira di gira nella tua mente profonda come un virus e ti blocca ti sabota di boicotta ti blocca ti frena fa resistenza al tuo progresso in tutte le cose nella salute nelle relazioni nel benessere nella ricchezza non credere nessuna parola del sottoscritto devi soltanto pensare che l'ipnosi dcs vera professionale è una scienza la prima di essere scienze arte e non ha nulla a che vedere con l'ipnosi buffa l'ipnosi paura l'ipnosi conformista commerciale l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.iprologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube per favore benessere ipnosi soluzione dicessere dottore claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicessere dottor claudio saracino e credi in te stessa in te stessa non da retta a quello che dice il greggio la massa anche blasonata anche che tu la vita al basso in alto così tu ragiona con la tua testa e guarda osserva e giudica sui fatti e risultati non sui bla 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 un bacio un abbraccio a prescindere dal sottoscritto può andare da qualsiasi parte che anche da un professionista dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola della tua zona del tuo villaggio del tuo paese della tua città ovunque tu risieda nel mondo vai ti siedi l'importante ascoltami bene che questo professionista abbia già affrontato il caso che tu cerchi di risolvere perché anche nel mondo è l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola esistono gli specialisti generalisti sappi soltanto che l'ipnosi dicesse vera e professionale di los angeles baby girls è un'ipnosi unica al mondo un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima ciao